Ciao a tutti, io sono Ellie e oggi torniamo con una nuova puntata dei 7 peccati capitali. Nello scorso episodio ci siamo lasciati con Ulisse, la generazione dell'Ira, che cresce diventando giovane adulto, ma prima, per colpa di un incidente, ha scatenato la maledizione del lupo Mannaro. Infatti questo incidente lo porta ad allontanarsi subito dopo e a girare per il mondo in cerca di una soluzione, e anche per paura di trasformarsi e fare del male ai suoi cari. Ma questo non sarebbe potuto accadere, visto che pure i suoi due padri sono dei lupi Mannari. Ma vabbè, dettagli. Ulisse sta via da casa per anni, fino a quando non gli arriva la notizia che i suoi genitori sono morti, e ha ereditato tutto sbloccando anche l'eredità di suo nonno Scar. Così torna a San Maesciuno per vendere l'appartamento ed ereditare i soldi. Il ristorante della Gola lo tiene, ma lo lascia in gestione ad un manager. Lui non lo gestisce, si prende solo i soldi. La ricerca di Ulisse lo porta a Moonwood Mill, anche per prendere l'eredità di suo nonno Scar, che si raccomanda di custodirla con cura e di non cederla mai a nessun altro, e Ulisse, anche se non lo conosce, decide di tenere fede alla volontà di suo nonno. Arrivano le prime lune piene ed Ulisse si trasforma in lupo mannaro. E diciamo che essere l'ira non lo aiuta per niente, perché infatti diventa un lupo mannaro molto rabbioso e non riesce a controllarsi. Infatti è costretto a rinchiudersi in un bunker che ha acquistato e aspettare che passi per non ferire nessuno. Quando è umano, continua le sue ricerche per trovare una cura o imparare a gestire la bestia che è lui. Infatti scopre che Moonwood Mill è pieno di storia sui lupi mannari, è lì che si sono stabiliti e hanno scritto numerosi libri sulla loro storia, e man mano che li legge inizia anche a capire il loro linguaggio e ad interpretare i simboli che trova nei libri. Come vi ho già anticipato, Ulisse compra un lotto a Moonwood Mill, il lotto quello del bar con la roulotte dove ha anche un bunker che sarebbe il suo copo per nascondere i soldi e la collezione di suo nonno. Passa molto tempo lì dentro e si allena un sacco per gestire la sua forza sovrumana, che ha ottenuto diventando un lupo mannaro. E siccome già in passato si allenava per gestire la sua rabbia, questa cosa è amplificata sotto forma di lupo. Ma perché Ulisse ha questi graffi addosso? Perché la sua inesperienza e voglia di conoscenza l'hanno portato a imbattersi in un pericolo mortale. Infatti Ulisse, attraverso i libri, ha scoperto che ci sono diversi passaggi segreti a Moonwood Mill, e ha deciso di esplorarli, solo che uno di questi l'ha portato ad imbattersi in un posto isolato, contando di cartelli che avvisavano un possibile pericolo, e di stare lontani da quel posto. Ma la sua curiosità l'ha portata ad entrare in quel luogo, per vedere che cosa si nascondeva al suo interno. E si imbatte in Greg, un lupo ultracentenario, molto scorbutico e rissoso, che lo aggredisce. E Ulisse, ovviamente, essendo l'ira, risponde ai suoi attacchi, e i due finiscono per attaccarsi e lottare. Una lotta molto accesa e violenta, ma alla fine, nonostante tutta la rabbia e forza di Ulisse, vince Greg, lasciandola a terra ferito e dolorante, mentre gli urla di andarsene. Ulisse, dopo quel giorno, non si avvicinerà più a Greg, per paura. E il lupo dà molto più tempo di lui, e anche molta più rabbia rispetto a lui. Chissà che cosa gli è successo. La generazione dell'ira deve intraprendere la carriera di criminale. Siccome un ramo l'avevo già fatto con Scar, ho deciso di fare l'altro ramo, quello dell'oracolo. Dovotutto Ulisse ha sempre avuto la passione per la tecnologia, e soprattutto per l'accheraggio, e con gli anni è diventato molto bravo. Infatti non ci vuole molto per ottenere promozioni e diventare uno di loro. Un altro hobby preferito di Ulisse è il furto. Infatti, quando non è impegnato con il lavoro o a studiare la vita dei lupi mannari, va in giro per le città, soprattutto quelle più ricche, per razziare beni costosi da una casa all'altra. Un giorno incontra un ragazzo che voleva fare lo stesso corpo nella casa, ma ha trovato la porta già aperta. Così entra e incontra Ulisse. Lui già lo conosce. Nel mondo dei ladri si è già spassa la voce di questo ladro pazzesco, con una forza innaturale che sbaliggia a case, ma nessuno l'ha mai visto. Così si presenta, dicendo che è un suo grande ammiratore e vuole lavorare per lui. Ulisse, ovviamente scettico, cosa se ne fa di un complice? E poi se lo tradisce? Non si fida, ma il ragazzo insiste. E gli dice di metterlo alla prova, che lui è un bravo cercatore di segreti, perché, oltre agli oggetti di valore, si possono anche ricattare gli altri sim con i loro segreti più oscuri. E così Ulisse decide di dargli una possibilità. Il giovane ladro si mette alla ricerca di segreti nella casa, nei posti più usati, e infatti ne trova subito uno, giusto in tempo perché la proprietaria rientra. Ulisse si nasconde mentre assiste alla scena. Il ragazzo le dice che conosce il suo segreto e se vuole che non venga divulgato dovrà pagarlo. Lei ovviamente non gli crede e minaccia di chiamare la polizia, ma lui le dice, è quasi ucciso il tuo vicino con la torta alla frutta e come scusa hai detto che avevi il sole negli occhi, invece l'hai fatto apposta e ci metterò due secondi ad attraversare la strada e andargielo a dire, perché già lo sospetta. A questo punto la donna lo implora di non farlo e alla fine cede, e gli dà i soldi e non chiama la polizia. In poche parole, cornuta e mazziata, poverina. Ulisse lo prende subito in simpatia e lo invita nel suo bunker a prendersi qualcosa da bere e saperne di più su di lui. Il ragazzo gli racconta in breve la storia della sua vita, è stato abbandonato da piccolo, ha passato tutta la sua vita in orfanotrofio e quando è stato buttato fuori da lì ha iniziato a rubare per mangiare. Non è un lupo mannaro, ma non gli dispiacerebbe diventarlo. Ad Ulisse questo ragazzo piace molto e i due alla fine diventano amici e complici in pochissimo tempo. Intanto Ulisse, al posto di togliere la maledizione del lupo mannaro, inizia a crescere sempre di più, imparando e sbloccando un sacco di abilità del lupo mannaro fino a diventare un lupo alfa. Ora, quei cucciolotti sono i tuoi sottoposti. Come alfa naturale avanzi più rapidamente nel branco, ne assumi il comando con maggiore facilità e ottieni risultati migliori quando lotti contro altri lupi mannari e se dovessi imbatterti in Greg, ripagalo con la stessa moneta. Ammetto che non ci ho provato a tornare da Greg e vedere se riuscivo a batterlo, però lo farò. Passa un po' di tempo e Hudson si è trasferito nel bunker di Ulisse ormai. I due lavorano insieme facendo colpi e alla fine gli chiede di trasformarlo in lupo perché vuole essere uno del branco, ma un branco è formato da più persone e così inizia a chiamare dei suoi amici, raccomandando Ulisse come leader, indiscusso e ottimo ladro. I ragazzi accettano e organizzano una serata per conoscersi al bunker. Ulisse piace a tutti, fin da subito le sue abilità di leader sono subito note e in poco tempo i ragazzi si convincono a farsi mordere per diventare dei lupi mannari. Ovviamente Ulisse è un alfa e nessuno di loro potrà mai disubbidirgli sotto forma di lupo. Così inizia la trasformazione e subito dopo la trasformazione i ragazzi lupo danno sfogo alla loro nuova forza. Ulisse adesso ha una banda di criminali lupo, ma non basta, deve fondare il suo clan per dimostrare agli altri lupi che lui è un leader di qualcosa e così sfida il nuovo capo delle zanne selvatiche e vince. Ovviamente lui l'alfa. È stato bellissimo prendere questo branco perché poi ho potuto aggiungere gli altri lupi e formare un branco tutti gli effetti con delle regole e se non le rispettano rischiano l'espulsione e nel frattempo posso punirli. Bellissimo. Adesso che sono un branco vivono tutti quanti nel bunker di Ulisse che è molto grande e può ospitare tutti. Una cosa che vedrete molto spesso entrando lì dentro sono i ragazzi trasformati in lupi o quando tornano normali sono nudi. Quindi un ottimo spettacolo direi. Ma torniamo alle cose serie. Ulisse non cerca l'amore, ha sempre paura del tradimento e quindi si dedica anima e corpo al lavoro. E oltre ad essere un ladro, un oracolo, un proprietario di un ristorante casino nightclub 5 stelle anche un piccolo banco dei pegni. Questo l'ho scaricato in galleria. Vi lascio giù in descrizione il nome del creatore o creatrice. È favoloso. Quindi Ulisse ha questo banco dei pegni dove vende la roba che ruba. Eh sì, avete capito bene. Se no che ce ne facciamo di tutta quella roba? In più ho impostato i prezzi del negozio su caro. Quindi la vendiamo pure a prezzi maggiori. Già non la paghiamo, in più la vendiamo pure cara. È una vera e propria truffa, cioè a tutti gli effetti. E i clienti comprano, ovviamente, senza problemi. Cioè non si fanno tanti scrupoli di da dove arrivi questa roba, bellissimo. Quindi Ulisse si fa un sacco di soldi. Ma torniamo al bunker, perché infatti passa un po' di tempo e riceviamo una visita inaspettata. Infatti un ragazzo si presenta al nostro bar e inizia a parlare con uno dei nostri lupi. Il suo nome è Zed. Eh sì, avete capito bene. Proprio quel Zed. Chiede a questo ragazzo di parlare con Ulisse. Sapeva che viveva lì. Jayden gli dice di aspettare di là e chiama Ulisse. Gli racconta di questo ragazzo che lo sta aspettando di là nella casetta. E la cosa bella è che mi esce proprio il fumetto dove stanno parlando di Zed. Cioè bellissimo, stupendo. Ulisse è stranito, non ci crede e decide di andare a controllare. Come lupo ha acquisito la super velocità e infatti Zed non lo vede nemmeno arrivare. E Ulisse ne approfitta per farlo spaventare. Zed, con i suoi soliti in modi sicuri, lo saluta e gli dice che lo stava cercando. Che era un sacco di tempo che non si vedevano e voleva rivedere il suo miglior amico. Ulisse è un po' restio a fidarsi di nuovo di lui, ma decide di perdonarlo. Dopotutto sono passati un sacco di anni e poi erano solo degli stupidi adolescenti. E così i due tornano amici e Zed si trasferisce da lui. Adesso che Ulisse è una banda di lupi ladri, creano le rapine organizzate in modo da poter rubare più roba. Perché, se non lo sapete, per rubare bisogna avere il tratto cleptomane e si può fare solo una volta. Poi bisogna aspettare un po' di tempo prima di poterlo rifare. Invece in questo modo, avendo una banda che vive tutta quanta da me, posso controllargli e fargli rubare un pezzo a testa. E così facciamo. Ovviamente fanno anche colpi grossi a Del Sol Valley rubando cose rare e di valore. Per poi rivendere tutto al banco dei pegni di Ulisse. Devo ammettere che fare questa cosa è stato super divertente. È troppo divertente andare a rubare nelle case degli altri, soprattutto con una banda. In modo che si possano prendere più cose e poi rivendere tutto a prezzi maggiori in un banco dei pegni. Bellissimo, veramente troppo divertente. Non l'avevo mai fatto, ovviamente su The Sims parlo, eh. Ovviamente su The Sims. È l'unica cosa, se volete farlo pure voi. Mi raccomando, non usate un lupo rissoso. Perché fa scappare tutti quanti i clienti quando si arrabbia. E purtroppo con Ulisse non riesco a gestire la sua forma di lupo. Perché anche se io ho sbloccato il fatto di tornare alla normalità a comando, come avevano anche i gemelli della gola. Con lui non funziona. Ci prova a tornare normale, ma dice che la furia è troppo forte e non ci riesce. E questa cosa comunque mi piace perché lui è l'ira ed è normale non riuscire a controllare la furia. Che sarebbe appunto la rabbia. Quando Ulisse deve andare al lavoro come oracolo, è Zed che si occupa del negozio. Ma lo fa solo per incontrare belle ragazze e portarsela a letto. Ma c'è un problema, perché Zed vive nel bunker di Ulisse, anche se in una casetta a parte. Perché il vero accesso al bunker lo hanno solo i lupi mannari. E Zed non vuole diventare un sacco di pulci. Parole sue, eh. Ma comunque, anche se lui vive fuori dal bunker, deve rispettare le regole. Infatti la prima regola di Ulisse è che non si porta né strane nel covo. Perché può essere anche un poliziotto sotto copertura, così. E Zed invece lo fa, senza tanti problemi. Infatti un giorno viene beccato proprio da Ulisse, che stava rientrando dal lavoro. E si arrabbia tantissimo. Ma Zed non gliene frega nulla. Nessuno gli dice cosa deve fare. Ma andiamo a parlare, appunto, del bunker. Perché infatti lì sotto non ci si annoia mai. Quando non si ruba, i ragazzi lupo stanno lì sotto e si possono trasformare liberamente. Ora che hanno sbloccato questa opzione. Per giocare, ospidarsi tra di loro su chi è il più forte. Giocano a poker. Ogni tanto Ulisse prende delle spade laser dalla collezione di suo nonno. Se lo scopre, lo uccide con le sue stesse mani per far divertire i ragazzi. Poi c'è chi legge e chi si allena. Fatto sta che non si annoiano di certo. Ma c'è un ma. Qualcuno non sta rispettando le regole del branco. E infatti viene subito notato dagli altri che lo riferiscono ad Ulisse. Infatti Jaden è stato notato mentre cercava di intrufolarsi nella cassaforte di Ulisse. Sigillate ovviamente dallo stesso. Quel piano è severamente proibito a tutti. Soprattutto se cerchi di aprire una cassaforte. Ma Ulisse decide di dargli un'altra possibilità. E lo rimprovera a mo' di lupo mannaro. Se lo rifai, sei fuori. Ma cosa sarà successo a Jaden? Perché disubbidire al suo leader? Beh, la risposta è quasi chiara. Visto che Zed ci sta provando pure con Hanson a portarlo dalla sua parte. Quindi Zed sta tramando qualcosa? Lo scopriremo nella prossima puntata. Nel frattempo c'è un volto nuovo in città. Più precisamente nella biblioteca di Monvoud Mill. Una ragazza sta eseguendo delle ricerche sui lupi, immagino. Visto che è in questa città. Oh no, aspetta. Quello è un tomo sui vampiri. Ciao. 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 Grazie a tutti.